Eccoci, buongiorno web spettatori di NanoTV, volevo fare questo collegamento in diretta, poi ci saranno anche delle interviste di cui vi darò conto. Alle mie spalle il mare di Napoli e davanti a noi c'è già un gruppo, ma ce ne sono tanti, ci sono centinaia di migliaia di persone, come vedete, guardate, riconoscete questo muretto? Dove siamo? Questa è la Darsena e il luogo dove viene girato mare fuori. Qui c'è il tunnel d'ingresso che tra un po' vi mostrerò, farò con voi questo giro. Le giornate fai di primavera, tantissimi in tutta Italia i monumenti aperti dal fondo dell'ambiente della cultura italiana e anche in Campania e a Napoli, questo luogo che è la base della marina militare, aperto davvero con centinaia di migliaia, lo ripeto, di visitatori. E allora, facciamo insieme questo percorso. Questo è il cancello dell'IPM. Ovviamente, per chi conosce questa meravigliosa serie dei ragazzi napoletani che ormai sta spopolando da anni, siamo alla quarta stagione che è anche conclusa, questo è il cancello dell'IPM. Ecco, guardate, ci sto entrando per voi. E qui c'è il famoso campetto in cui vengono girate tutte le scene. È un campetto creato proprio apposta per la serie. Quartier generale della marina che è aperto proprio in queste giornate fai, lì c'è la Darsena, ovviamente, che è aperto a queste visite speciali, queste visite di luoghi meravigliosi, anche perché qui lo ricordiamo, ve ne abbiamo dato conto, c'è stata una convenzione firmata nei mesi scorsi tra il Comune e la Marina perché con i lavori che si stanno ultimando si riuscirà finalmente ad avere la passeggiata verso il Molo San Vincenzo che è un posto meraviglioso di età borbonica e che permetterà davvero per diversi chilometri di fare una passeggiata a mare e di trovarsi praticamente al centro del Golfo di Napoli in una location spettacolare, quindi da napoletani e non solo da organi di informazione e la aspettiamo, ma questo è il campetto che vi sto mostrando. Eccolo, Quartier generale della Marina Militare, lo ripetiamo, siamo in via Acton per le giornate fai di primavera, questo è uno dei luoghi che sono stati aperti in queste giornate particolari e ovviamente ci sono sia gli studenti di diversi istituti napoletani che stanno facendo un po' da Ciceroni per spiegare tutto quello che succede e per spiegare soprattutto la storia di questa Marina Militare che ormai da oltre 200 anni è qui presente a Napoli, questo quartier generale. Ecco, vi mostro anche alcune cose del centro studi delle tradizioni nautiche che è visitatissimo fino alle 4 e mezza e oltre c'è ancora la possibilità di ingressi, ovviamente già ieri è stata una giornata molto affollata in questo sito e almeno fino alle 16 e 30 ci si può mettere in fila per visitare questo pezzo di storia davvero napoletana che è rappresentata dalla Marina Militare e soprattutto per la curiosità dei tanti giovani, dei tanti turisti che affollano la città che vogliono vedere il campetto della serie Mare Fuori come vi abbiamo mostrato. Bene, io provo a vedere se c'è uno dei marescialli e poi vedete, vi mostro zoomando di quante persone siamo su Via Acton alle spalle del Palazzo Reale e c'è ovviamente una fila enorme di persone che sta visitando questo sito. Bene, non c'è ancora la possibilità, grazie, ringrazio ovviamente la Marina, poi magari vi darò conto di un'intervista particolare a uno dei comandanti della base. Vi porto ancora un po' prima di concludere la diretta in questo meraviglioso posto che è la Marina Militare. il quartier generale di Via Acton, questo porto ovviamente è sempre stato fin dal regno delle due Sicilie un luogo strategico ed è qui che fin dal 1600 all'inizio del 1600 fu messo il comando poi trasformato nei vari anni, insomma cambiato un po', ma un pezzo di storia sicuramente della città di tutto il sud Italia e del Mediterraneo. Ecco, allora concludo proprio così, con le immagini di questo campetto, con le immagini del tunnel laggiù che vi ho mostrato, dell'entrata, del cancello famoso e con questa passeggiata che ci auguriamo da napoletani, prima che da organi di informazione, lo ripeto, di fare quanto prima sul molo San Vincenzo, che è uno spettacolo davvero naturale che sicuramente darà ancora più lustro alla nostra città. Per ora concludo da Via Acton, dal comando della Marina Militare. Vivete, se siete ancora in giro, approfittando nonostante la giornata ventosa di queste giornate di primavera, giornate FAI, c'è Villa Rosberi, c'è la Federico II, c'è Castel Capuano, c'è anche la chiesa dei Girolamini che non fa parte del circuito FAI, ma è stata aperta qualche settimana via Tribunali nel centro storico ed è spettacolare, ridata davvero alla luce. E poi, se vi trovate, ripeto, fino alle 16.30, almeno qui al quartiere generale della Marina, accolgono per queste visite guidate, si entra a gruppi di 50, quindi se siete in giro, venite, magari vi mangiate una buona pizza e vi godete queste giornate FAI di primavera a Napoli. Per ora è tutto, concludo Paolo Fusco, comando generale della Marina Militare di Via Acton per NanoTV.